realmente 500 euro le scarpe, 500 euro, bella pantaloni? io, io, io pantaloni, 40 euro, zana maglietta? Versace, 300 euro, 3 al polso cosa abbiamo? Patel Philippe, 59,90 200 mila euro, 2 dirà cosa? 59,80, in oro, 200 mila euro fantastico cos'hai dietro? ah, zana, supreme 20 mila euro bella, bella, bella per un totale bro, bro bro, di 421.140 euro per un totale